Consigli, istruzioni per l'uso e strumenti di difesa davanti a quella che sta diventando una piaga sociale sempre più diffusa, le truffe agli anziani. Pensionati pesaresi chiamati a raccolta questa mattina nella sala del Consiglio Provinciale in occasione dell'incontro organizzato da CNA dal titolo Stop alle truffe, come prevenire frodi e imbrogli e garantire la sicurezza di cittadini ed anziani. Un tavolo di confronto svoltosi alla presenza di esponenti di prefettura, comune, provincia, regione e soprattutto di carabinieri e polizia per un lavoro di squadra a difesa di un fenomeno dilagante. Una raffica di frodi, non solo ad anziani, aumentate del 25% in tutte le marche nel 2023 appena concluso. La preoccupazione è molta perché specialmente i nostri pensionati sono sempre i più facili da individuare e truffarli o raggirarli. I carabinieri sono la forza importante e lo stimolo che ci hanno dato perché parlando ci hanno consentito subito di fare questa iniziativa, però noi siamo collegati anche con tutte le altre forze dei carabinieri, della polizia, di qualsiasi altre forze anche della polizia urbana in modo da poter mandare avanti questa iniziativa. Quotidianamente giungono segnalazioni di persone che lavorano magari al contatore dell'Enel, alle condutture idriche. Normalmente, diciamo per prassi sempre, chi opera in questo settore non va a bussare a casa delle persone per entrare e andare a vedere situazioni di dettaglio nelle abitazioni, se non magari mediante avvisi che ci sono stati a monte, quindi una campagna di informazione preventiva proprio per predisporre il tutto. Sempre la chiave di lettura è l'anomalia e affiancare alla chiave di lettura e l'anomalia il presupposto che nessuno potrà mai venire a casa, sia appartenente alle forze di polizia, sia appartenente a ditte di pubblica, società di pubblica necessità, Enel, Gas, insomma quelle che siano le utenze di consumo, nessuno, anche privato, potrà mai venire a casa a chiedere soldi, mai, mai per nessun motivo. E questo è per le truffe di persona. Online vale la stessa cosa, nessuno potrà chiedervi mai soldi online a meno che non state effettuando un acquisto o il pagamento di un'utenza. Tutti possiamo essere truffati, quindi uno non bisogna vergognarsi di questo. Il truffato può essere una persona istruita o meno istruita, colpisce tutti, colpisce soprattutto in un determinato momento di debolezza, che la possiamo avere tutti, sia perché siamo impegnati in 10.000 attività, i truffatori ne mettono in atto 10.000 al giorno, su 10.000 vanno sui dati, le percentuali. Se 4-5 persone ci cascano, loro hanno raggiunto il loro scopo. Semplice. E ci provano sempre. L'importante è consultarsi, non prendere decisioni affrettate, perché il truffatore ti fa prendere la decisione immediatamente. Noi come Polizia Locale di Ancona è dal 2019 che seguiamo un progetto, l'Apparenza inganna, che è un progetto di prevenzione truffe agli anziani. Noi svolgiamo degli incontri presso i circoli, presso le associazioni, le chiese e spieghiamo un pochino agli anziani quali sono le truffe più frequenti, i comportamenti da adottare e comunque li invitiamo a chiamarci sempre, sempre, sempre. Abbiamo l'anno scorso anche aperto una pagina web dove ci possono contattare per richiedere degli incontri oppure ci possono lasciare le loro esperienze, belle o brutte che siano. Cerchiamo di dare il nostro contributo sul territorio, essendo i primi, quelli in cui si possono rivolgere i cittadini sia per strada che tramite telefono. Noi cerchiamo di fare il possibile e soprattutto cerchiamo quanto più possibile di informarli. Più possiamo informarli, più sono accorti, più conoscono le cose e più riescono a proteggersi.